essere o dover essere mi presti l'appuntamento no no ah e comunque sono in live grazie luca grazie e grazie anche a stewey e grazie ad andro gamers ci sono non ci sono ci sono sto avendo un problema sto avendo un problema ultimamente alcuni giochi in full screen alcuni giochi in full screen mi sfarfallano di verde mi mi sfarfallano non so cosa fare perché mi sfarfalla vi faccio vedere aspettate faccio vedere il video che ho mandato anche agli altri oddio mi sta tornando su l'anima grazie la gina 13 mesi ho 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 pucciato le macine mulino bianco nel latte quindi mi stanno un attimo mi stanno dicendo ma che cazzo che sei stronzo perché l'hai fatto e effettivamente c'ho ragione io dov'è qua dove cazzo sono i termosifoni sesso gratis ecco qui ok c'ho c'ho questo problema di sflickerages vedete è il fuoco è il fuoco vecchio mio vedete me lo fa questo gioco qui c'è player unknown messo in full screen per fortuna si può giocare in finestra senza bordi me lo fa porca troia hello neighbor hello neighbor stasera non lo facciamo per quel motivo lì non lo facciamo per quel motivo lì grazie ai sog grazie mille non lo faccio per quel motivo perché non si può mettere in finestra senza bordi aggiorna i driver già fatto giusto stasera sono usciti i driver per domani perché domani esce player non battleground quindi stasera ci alleniamo nel test server e domani spacchiamo i culi nel nostro server grazie vincent grazie vincent grandissimo vincent grazie la vivi il primo mese di subbanza zampu oh sì grande gatto le ci vuole bene grazie mille grazie anche a grizzle pixel si definisce con il termine esplosione cambriana l'evento paleontologico consistente nella comparsa improvvisa di un tempo molto ristretto su scala geologica cos'è un tempo ah aspetta devo finire la frase giustamente della maggioranza dei maggiori fila di animali complessi nonno cioè quindi esplosione cambriana è quando ci sono un'infinità di specie che nascono in un metro quadro in pratica molto interessante grazie mille tanto difficile ma ci sono arrivato grazie a messi sei mesi grazie ad alex quattordici mesi buon natalo domani si parte per una settimana bianca attendo come sempre il videone natalizio tradizionale su gta ci stiamo lavorando ci stiamo lavorando e grazie anche a scivale ragazzi scivale ci ha tirato con le frigitrici pensate ne ho comprata una di quelle lì che si frigge senza l'olio arriva venerdì vi farò un tutorial o una live di cucina non lo so vediamo quando arriva che ora arriva comunque che stavo dicendo mi sono perso la frigitrice giusto abbiamo la frigitrice cazzo mi son perso porca miseria che mi vado a distrarre la cucina si no si era quella in offerta su amazon e poi grazie al dottor Rob la donanza per superare l'esame di domani si vuole bene cattola grazie mille grazie mille sono dimenticato la frigitrice vabbè arriverà e vedremo un po' di che si tratta insomma come si frigge senza olio lo scopriremo ricette ah domani c'è la 12 ore dei termos è vero quindi domani mattina no live no ma c'è un'altra cosa che dovevo dire che mi son distratto tantissimo ma tantissimo ah già è vero è vero sub perse bravi bravi grazie ad Alan Karma grazie mille faccio ripartire grazie dottor Rob la faccio così il Natale quando arriva arriva quante volte erano stessa piccolo donazzo per superare l'esame di domani se vuole bene cattola grazie mille grazie ad Alan Karma allora so che sono sparite delle sub so che sono sparite sono sparite tutte le sub che ha regalato il signor supporto ecco purtroppo il signor supporto ha cancellato il canale non so per quale motivo spero che stia bene spero che sia tutto ok non ho idea e il problema è che tutte le sub che il signor supporto ha regalato sono sparite quindi se voi eravate sub perché ve le aveva regalate il signor supporto il momento in cui lui ha cancellato l'account sono sparite tutte e quante io non l'ho sentito non lo so lo ringrazio ancora per aver fatto quei regali però è sparito quindi non sappiamo cosa sia successo speriamo nulla di grave speriamo che non non credo sia successo non credo che l'abbia fatto con cattiveria credo che non lo sapesse grazie a Torianzo grazie mille grazie a Desbo e grazie a Sconti e a Miflex non so cosa dire ciao ok quindi non vi so dire probabilmente le vostre sub regalate erano collegate al suo account una volta tolto una volta cancellato quell'account si sono andate a perdere tutte quante le le sub mi dispiace non lo so ok nebo bisogna contattare il supporto per il supporto che cosa fa fine il supporto è Valentino Rossi come grazie Resin Sun tasto destro sul desktop pannelli di controllo in video modifica risoluzione scorrere in basso per impostare il colore per impostare il colore sul profilo della GPU non ho mica capito sai aspetta fammi vedere pannelli di controllo in video fammi vedere perché non ho capito modifica risoluzione ok impostare il colore sul profilo della GPU e non so che cos'è il colore del profilo cioè devo mettere impostazione colore in video grazie MaitoGuy e grazie a Rocket buonasera un piccolo consiglio che è iniziato a streamare da poco e si vuole bene adesso vi dico adesso vi dico il colore cambiano solo con il game ma neanche tutti i giochi boh me la prendono con xolo che si è fregato i soldi della sub e altro che supporto no ma infatti il problema è quello è per quello che non ha senso è ottima snitch ottima no 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 non è solo player non il problema non è solo player non il problema purtroppo alcune cose full screen non vanno ci chiede gli ha detto che non gli hanno ridato i soldi per tutte le sub ah guarda io non sono andato a controllare perché sennò mi viene male l'impostazione va messa su quello nvidia è così fixer attualmente è così già aggiornati driver niente non riuscite a seguire il discorso dall'inizio dovete sparare soluzioni a caso grazie Voldemort scrivi in privato e leggo non ci sono problemi non si preoccupi avete visto come non ho lasciato trasparire niente sono una sfinge perdonatemi che Windows abbia fatto casini ah possibile ma anche i driver vecchi davano problemi non lo so il problema è da eh ma Gabriele aveva un problema anche nei driver precedenti a quelli che ho appena aggiornato comunque comunque il problema è dello schermo che flicca è la parola di disabilitare il v-sync del gioco no no ma non c'è il v-sync player vabbè mentre giochiamo mentre giochiamo in finestra senza stronzi che tanto comunque funziona oh finché funziona non ci stiamo lì a lamentare dai funziona in finestra senza bordi fa un po' cacare però almeno va mi dispiace per lo neighbor perché non c'ha la funzione senza stronzi non ha la funzione finestra senza stronzi lo stesso problema se si cambia risoluzione poi si torna a 1920 e si risolve oh davvero ci provo ah è vero che ha aggiornato windows ha aggiornato che cazzo ruppol se le fa piacere anche a me il pc si sta distruggendo ah vedi vedi allora aspetta proviamo tanto non abbiamo niente da perdere schermo intero vai rattiger 12 mesi per lui grazie mille gentilissimo i miei occhi mi stanno bruciando ok ok a 720 funziona occhio dov'è 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 sunfire grazie sunfire gentili sunfire grazie mille bravissimo credo sia la prima volta che effettivamente una persona che mi dà un consiglio in live poi funziona wow ho staccato l'hdmi da qui da sotto l'ho attaccato all'altro monitor ho riavviato ho aggiornato i drive ho fatto tutto però anche con lo proviamo dopo a questo punto perché tanto ormai abbiamo avviato questo e non vado a cambiare il gioco tutto quanto in corsa quindi va benissimo così grazie mille wow cazzo quante emozioni quest'oggi il lavoro è lavoro è vero ma ma non so che grazie Janssen c'è una prima volta per tutto mamma mia ciao Julesy comunque vi devo dire una cosa ho scoperto un canale ho scoperto un canale mi sono dimenticato come si chiama Twitch Fail Italia una cosa del genere non mi ricordo bello sono contento sono contento che sia nato questo canale ci sono anch'io nell'episodio 1 purtroppo uno dei miei non vi voglio spoilerare ci sono anch'io è un canale è un canale di Fail dove prende tutte le clip che ci sono su Twitch e fa un montaggio ce ne sono a centinaia in America ed è fighissimo sono contento che qualcuno l'abbia fatto anche per per l'Italia sono sono veramente contento ho apprezzato veramente tanto tanto questa cosa e non mi sono iscritto perché mi sono dimenticato ma soprattutto ha un problema allora se mi stai guardando ovviamente non utilizzare questa parte per farti pubblicità brutto bastardo o bastardo si si su youtube grazie tecnauta però ti do un consiglio allora lascia per più tempo il nome dello streamer perché io ho visto un sacco di streamer che non conoscevo ho detto come si chiama e cazzo è sparito perché dura veramente poco però quella è una cosa mia volendo si può tornare indietro però tu lascialo per più tempo tanto non ti cambia niente è un bannerino in basso a sinistra secondariamente sono triste sono triste perché il oh madonna quando vuole avremo un ospite prossimamente comunque il problema non era il montaggio perché vabbè montaggio bello con anche delle scene che si spostano e quant'altro una cosa simpatica una cosa carina un montaggio di clip praticamente trova le clip più belle per ogni canale e la mette è una cosa bella magari segue anche le live e le fa lui le clip sarebbe ancora più interessante non ci siamo ripeto che c'è un motivo ripeto che c'è un motivo per la quale non osto italiani la metà delle clip era la sagra della bestemmia ora ovviamente aveva censurato tutto per il meglio bravissimo signore che ha montato il video però merda no non posso non posso no cioè io sono contentissimo che sia nato il canale Twitch Fails Italia ma sono triste perché ci sono in mezzo perché sono in mezzo a quella gente lì no sono triste cazzo e porco qua e porco là e porca su e porca giù e va bene dai cioè e questo e questo mi dà da pensare perché non è l'eccezione no non mi va di sfiga a ostare uno che poi bestemmia no è la base cazzo tutti tutti no no dai ragazzi sapete che sento l'ade un po' di merda con un riverbero della madonna perché scusate un secondo scusate un attimo per controllare il riverbero il riverbero è a zero eh sì eh sì va bene oh no me l'ha rimesso che sflickera ma guarda te ah quindi ogni volta che va bene lo accetto fastidio eh vabbè posa così grazie redbird noi non vediamo niente ma sì ma sì merlo grasso non so che non vedete niente lo so è già la seconda minchiata che scrivi in chat hm hm eh sei contento mi fa piacere e quindi no non è l'eccezione il tipo che bestemmia ma bensì una triste regola e questa cosa qua mi ha fatto stare un po' male perché porca vacca dai davvero uh vabbè due è meglio di uno hm non tenere il conto che è meglio eh ho capito però che palle a me dispiace a me dispiace perché non tutti gli streamer bestemmia no ovvio però se nel canale lì di fail la metà era bestemmia l'altra metà era la gente che si crea il momento drama da solo eh no dai che mondo stiamo finendo e se finisci a dover crearti da solo un momento drammatico eh tipo meme vuol dire che è finita l'altra po' di più un po' di più poi per il resto amel che dobbiamo fa bestemmia che dobbiamo che dobbiamo la bestemmia capito vuol dire che c'è gente che apprezza guardare i video dove ci sono i porconi di altre persone pensavo che quella youtube lì fosse morta grazie anche a Pierfrancesco questi erano i miei duecentesimi a riguardo ma non c'è una sintesi veloce della storia hanno fatto un canale di best of fail di Twitch Italia e la metà sono bestemmia abbastanza easy gatto il chirichetto no gatto il non testa di cazzo va meglio perché se devo bestemmiare per intrattenere il mio pubblico vuol dire che c'è veramente qualcosa che non va la puttana ladrone è un canale Discord no ah però molto probabilmente cazzo Luca ha scovato questo sito e probabilmente faremo un mesetto di prova giusto per vedere questo sito che ti permette di fare un sito ti permette di fare un sito per le persone che ti seguono su Twitch infatti bisogna loggare su Twitch col proprio account sul sito su questo sito che dovrei andare a creare io no ti lascio lì dove sei mio dio che roba e permette di vedere dei contenuti esclusivi solo per i sub semplicemente loggando sul sito ed è una cosa molto interessante quindi sarebbe un sito dove posto aggiornamenti e cose di questo genere e in più c'è la sezione dedicata solamente i sub costa 7 dollari al mese o 7 euro al mese non mi ricordo più volendo si potrebbe provare vediamo hanno messo la carta igienica che scicheria sono fuori dalla safe di un centimetro quindi si potrebbe provare al massimo abbiamo buttato via 7 euro potrebbe essere interessante strano gli unici che bestemmia non sono gli italiani e vabbè grazie al cazzo negli altri paesi non c'è la bestemmia 750 dollari anche se non credo freghe nessuno il costo preciso a me grazie mille Luke il lavoro è lavoro grazie Nicola è Natale sembrano bestemmie forzate per cercare di sapere una risata ma sono no ma saranno bestemmie abituali no no ma guarda che ci credo che non se le tirino fuori a forza le bestemmie però non giustifica non giustifica si finalmente ho trovato un elmo effettivamente non è che ne trovi così tanti ultimamente sta passando un aereo cazzo era ci sono anche in inglese solo che loro non le dicono si però non è non c'è non c'è la la cultura diciamo chiamiamola così cioè non siamo solo noi che ce l'abbiamo ecco vabbè fate come vi pare però a me dispiace aaaaa no pado avanti così accetto la mia situazione attuale l'usanza sì ma anche usanza fa cagare uguale perché vuol dire che è una cosa abituale no boh vabbè mi sento poco un cazzo cazzo è sta roba ma hanno capito il mirino del 4 per ci hanno messo un pallino no perché dai mi piaceva tanto il triangolo vaffanculo ma no ma sono sempre 7 dollari al mese ci sono più tipi dice manu ah di in game figo bello davvero non me ne aspettavo oppure le posso selezionare dal menu uh è vinta vedete questo era un bel momento fatto senza dover cambiare scena o mettere musica di sottofondo per farvi capire che era un momento simpatico basta guardare la telecamera a fare la faccia poi se qualcuno vuole montarlo e farlo diventare più figo lo fa però insomma avete capito come si fanno i momenti della simpatia si guarda la telecamera il pubblico guardo il pubblico delle volte non serve neanche parlare perché c'è il bug quello che fa ridere tutti butto lì solo prima persona sì 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 opla in base all'arma come rainbow no su rainbow decidi quale mirino vuoi in quale arma non ci ah il bombardamento oh nel dubbio vado a fare in culo non ho capito perché devo stare qui eh ciao isa fuse per esempio ha l'acog diverso ah non ci ho mai fatto caso perché non uso l'acog vedi che so stronzo il trittico delle bestemmie veneto Toscana Friuli eh i toscani sono infami eh i toscani sono infami perché le dicono tipo maremma eh so stealth non sai che quello lì capito i toscani come se le se le girano e rigirano eh mirbaccioni Paolo è un uomo affascinante che paura grazie Davide Paolo è un uomo affascinante perché perché in live lui non bestemmia vedi ho spaccato il vetro vandalismo ma donna come viene giù serviva no però è stato bello ah c'è un buco nel muro eh dai no su serio scusami a cosa serve allora a farsi uccidere in realtà in tutti i dettagli diffusi alla bestemmia e chi ha detto di no non non ho detto di no non ho detto che solo i toscani bestemmi ho detto che loro lo possono fare stealth e che lo fanno stealth perché non capite quello che dicono non ho detto una cosa strana fai come Marching venerdì 13 hai visto sempre stato bello si nido e invece poteva essere bello allora ci sarà un po' di riverberino sentendo l'audio in surround lo sentite anche voi in surround tra l'altro perché è impostato proprio su surround l'uscita però senti eh dai è molto bello eh Gesboro questo era vicinissimo ok grazie a stei calmissimo eh tuscani furbacchioni bravo si ferma non si ferma intanto cristia parantropia che bello che qui si finisce sempre a parlare di bestemmia e fuoriuscita di fluidi o solidi corporei eh per forza si parla di Twitch l'ho rovinata la ridico la ridico così potete fare la clip che bello che qui si finisce sempre a parlare di bestemmia e fuoriuscita di fluidi e solidi del corporei per forza Isa si parla di Twitch Italia si ma velocissimo bravo ero distratto per l'amor di dio ma bravo cioè fammi rivedere per l'amor del signore l'ho rifatta avete visto non avrei dovuto rifarla visto il momento perché lui mi aveva chiaramente visto già da prima l'avevo visto minchia però ho avuto dei bei riflessi me l'ho lasciato questo cioè da me è iniziato a sparare un pelo dopo rispetto a dove è iniziato a sparare lui però ho avuto dei bei riflessi sono stato bravo ho riflettuto alla svelta no non me lo lascia vaffanculo fu un col vaffanculo vaffanculo vedo per le mani di suicidale me ne sbatte le balle io ci provo io ci provo ragazzi a portare della nuova gente però arrivano vedono me e mi dicono che mi lamento troppo con la gente che scrive le puttanate in chat che in realtà io sto cercando di tirarvi su in maniera educata arriva uno scrive una stronzata e dico hai scritto una stronzata e lui non scrive più stronzate la mia chat non è un tripudio di merda di emoto del cazzo che vengono spammate ogni due minuti nella mia chat non c'è il caps nella mia chat non ci sono le bestemmie eh nella mia chat non ci si insulta stronzate tranne Isa Isa abuso un po' troppo del caps ma infatti verrà ferma bannata per un mese vedi quel pirla ha fatto il furbo scrivendo moro di me e subito e soprattutto siete molto belli tu no Carles tu no non puoi dire siamo belli con le moto dei termos non qui bannatelo per sempre per piacere neanche tu hai visto Gabriele sono stato io a eliminare il messaggio del tipo che ha scritto messaggio eliminato l'ho kickato per 10 minuti perché io non uso better twitch per kickare per pochi secondi se leggo la puttanata sono minimo 10 minuti quindi ricordatevi ricordatevi sempre che se venite se venite kickati dal bot siete stupidi perché basta seguire le regole base se venite kickati per 2 o 3 secondi dai moderatori per aver scritto una minchiata va bene però se io arrivo prima dei moderatori e so cazzi i vostri 10 minuti vi siete fottuti un sesto di live quindi sperate sempre che arrivino prima i moderatori tipo la cassazione madonna eh no no comunque la roba mi fa cagare ve lo confermo parla a me questa scritta titoli di coda del gioco dai ho trovato l'otto per me lo infilo nel culo letteralmente non c'ho niente non c'ho niente giubbino madonna cosa sto trovando ah cosa ho raccolto qua non lo volevo questo non li va perché 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 manu manu qui c'è qualcosa che no c'è un broglio manu ma da me e qua c'è perché cazzo vuol dire che è in test ma me lo infilo nel culo il test come è pagato ma l'M16 è fatto per avere il mirino ma va fa il culo va il gioco di merda cioè che culo che ho trovato il mini 4wd qua però quanta quanta roba sto trovando e vabbè ancora ti dico che te fa te ne vai pure a fare in culo qua tiè dov'è no dammi questo in test ma va a cagare va là ah no non va più sull'M16 c'è scritto nel patch note ma l'M16 è fatto per sparare distante se mi togli quello dall'M16 diventa l'arma più inutile della vita dai che peccato vabbè no che c'è della luce lì e in santo cristian fa era OP e insomma era fatto apposta era questo cambia tutto eh cambia abbastanza se mi togli un fucile come l'M16 dalla dall'8x eh so cazzi che c'è che mi arrivano perché non entra oh è un gradino vabbè falo devo saltare pure ok che delusione sto messico effettivamente che bello che bello tra l'altro allora oggi ho farmato oggi ho farmato un po' domani mattina non faremo Assassin's Creed perché domani mattina non ci sarà la live perdonatemi non conosco con la mappa quindi vado un po' a cazzo oggi ho farmato un po' su Assassin's Creed tra l'altro quanto è difficile salire di livello ragazzi ho fatto un sacco di secondarie ho ucciso un sacco di animali adesso ho praticamente tutte le cose a blu a parte una roba viola quindi insomma ho molta più difesa ho molto più attacco molto più attacco a distanza ho potenziato anche la lama cellata insomma mi sono potenziato un po' il personaggio di Assassin's Creed grazie a The Dagger sei mesi nella grande efficienza grande gatto grazie mille vedete qui che bordello sono arrivato al livello 23 vi giuro ho giocato tre ore tutte tre ore tutte me le son fatte schippando anche i dialoghi perché a me non avevo voglia e ho fatto cos'è? due livelli cazzo dopo il livello 19 metto un'intera regione per salire massimo tre livelli e fa un culo però soprattutto perché se tu trovi uno di un livello più su di te suki ma tanto ma tanto suki tantissimo e vabbè che sui allora però giocavo perché comunque a me piace Assassin's Creed non lo sto giocando per giocarlo in live lo sto giocando in live perché altrimenti non ci gioco perché sono un po' indietro ho sempre paura di giocare troppo per i fatti miei anziché lavorare allora mi sono preso un paio di giorni di pausa ieri non ho fatto un cazzo oggi ho giocato l'assassino domani registrerò e allora e e che cos'è domani registrerò tra l'altro in ansia perché mi hanno fatto fare il video di Fortnite alla velocità della luce lunedì l'ho registrato e montato l'ho consegnato e mi hanno fatto sapere qualche ora fa se se potevo pubblicarlo o meno domani lo posso pubblicare lo posso pubblicare e domani lo vedrete è strano che io possa pubblicare quella roba lì secondo me prima o poi me lo tirano nel culo loro mi hanno detto che l'hanno provato ci credo poco secondo me sarà vedremo e ok dammi questo sparano scoppiano i botti proprio e allora ho fatto una sega per un paio di giorni mi sono preso un po' di tranquillità posso? posso perché faccio quello che mi pare domani registrerò allora domani ci riesco vado a tagliare i miei cappelli vado a tagliare i cappelli e poi dopo registro Wild West Online Wild West Online che ho comprato solo per registrare su YouTube poi dopo magari qualche live ci farò però non credo perché è ancora in alfa giusto per dire che non sto investendo minimamente sul canale ci ho speso 80 euro per giocare l'alfa di quel gioco che probabilmente sarà una merda ma giusto per provare qualcosa di nuovo far vedere qualcosa di nuovo li ho spesi e no ho già visto e vedremo un po' di che si tratta perché è un gioco che aspetto moltissimo insieme a Kingdom Come Deliverance sono due titoli che aspettavo veramente tanto e quindi giocarlo prima mi interessa sicuramente ho già visto un paio di video mi sa che allora mi sa che da vedere ci sarà poco però registrarò qualche oretta per avere un video decente Wild West Online è quello Pseudo Red Dead Redemption esatto un Red Dead Redemption MMO con quest quindi allora ho sentito sparare ma non ho visto oh questo c'ho in mano ah c'ho la padella c'è uno che scende giù dai monti che bella novità lo hacker che bontà ci tento ci tento ah ho capito ho sbagliato che cazzo ma non mi ha sparato lui però si invece cazzo mio dio lascialo che è un capretto è fanculo eh e dai e dai mi sta lanciando i sassi per davvero il suono era quello mi ha dato una schicchera fortissima nell'orecchio che mira però vabbè figa che cazzo ho fatto dale che mi sono spaventato anche ho sparato di là ci ho provato non ho mai sparato così distante tutti esperti adesso tutti espertissimi ci ho provato eh eh prendiamoci pure questo intanto mi ha fatto male ma che mi ha chissà con che cazzo mi ha sparato non è una buona idea stare fermo eh però peccato perché lo volevo vedere sono io il proprietario mi piace moltissimo questo mirino sapete ma per la visuale mi piace mi piace come è fatto occupa tutta la faccia però è bello mi piace da vedere grazie dai giochiamoci 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 ma tanto lo so che lo molliamo lo so perché conosco lui conosco me e noi le molliamo quelle robe lì che bella sta succedendo di tutto che crazy oh ah ok non vedo nessuno correre oh c'ero eh c'ero mannaggia quasi quasi non l'ho preso ma quasi non ce l'ho l'uptime Mark perché io faccio le live tutti i giorni alle stessa ora c'è la balistica e beh sì grazie Raiko e siamo a meno nove ero tentato di non fare l'area sub solo per la questione birra ma sotto Natale siamo tutti più ronzi grazie beh 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 dimentico cazzo la ringhiera che da lontano mi sembra uno che si muove affanculo avevo smesso di averlo sto problema è tornato proprio alla grande mi fa veramente brutto pensare di dover correre lì in mezzo quindi non lo farò sparava a me sembrava un buggy boh è veramente tanto a campo aperto questa mappa io non so non vedo nessuno però se uno mi vede sono finito boh ah vedi qua l'aspetto è sicuramente da di qua anche da lì là fatemi vedere un flash vi prego boh ho visto uno no mio Dio non ho capito non ho capito perché sento sparare da di là però è arrivato prima il colpo dello sparo dunque ho sentito prima il colpo a terra dello sparo e vedi non capisco un cazzo non capisco un cazzo mini 14 va bene per cecchinare eh sì non fa tanto danno ma spara come un mitra quasi fa tum 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 è abbastanza power poi io sono una merda e quindi lo userò di merda però è abbastanza power in realtà se non è sti in 29 è vivo ed è particolare perché l'ultima volta che ho controllato poi non ho fatto caso eravamo a 33 e non è è passato un bel po' cioè è passato veramente tanto oh quel sasso proprio mi fa prendere paura sempre vediamo un po' dove si chiude vedo niente non vedo lì si stanno continuando a sparare probabilmente da 12 km di distanza perché mezz'ora che sparano lì sempre un sasso sempre un sasso mi giro c'è un sasso fanculo che brutto posto questo mamma mia sono petardi potrebbe essere sembra riesce a trasmettere molta più tensione nella mappa assolutamente no no ma infatti a me piace mi piace perché è diversa è molto diversa quindi non è migliore dell'altra è diversa io sto apprezzando molto questa mappa per questo motivo perché possono convivere tranquillamente non ho una preferenza tra una e l'altra una è fatta in un modo una è fatta in un altro qui continuano a sparare ma io non dio mio il glitch non vedo un cazzo non vedo un cazzo non ho visto però immagino sia distante da come mi sta mancando e sparano anche da di qui c'è un baghi rovesciato lì c'è una macchina forse qui dietro questa radura c'è qualcuno beh c'ho la paura l'ansia nel mio cuore sento sparare tantissimo ancora tra l'altro mi sto curando ma magari ho fatto una stanzata perché non ho più niente per aver sentito dei rumori la mia immaginazione va bene ho paura potrei rischiarmela cosa ho da perdere la partita dai dai infamone proprio Manu dai devo stare a cechinare chi arriva proprio da bastardo potrei che prendo questa macchina con la brema gica la banana eccolo ruota 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 il volante mi sparano signori mi sparano contro no aspetta aspetta devo decidere non so se ho fatto una cazzata mi sa di si e dai fanculo fanculo ciao ciao stronzi mannaggia chi è grazie wow finalmente argento grazie mille mi fico qui guarda chi è con tutta la macchina fanculo sono passati degli hippie quella macchina è indemoniata sono fuori dalla safe e dai grazie che paura che paura che paura che paura un episodio di cobra 5 un episodio me l'hanno bucata scusa ma io sono nella safe perché mi dice che non sono fuori che fastidio il rumore grazie che promo arrivo sulla coda ma siamo già a 8 quasi un parto grazie mille fa basta questa macchina è pazzia quanti colpi c'ha quello lì che continua a spararmi ok top 10 in teoria top 10 fatta il gas mi arriva lì come da là che cazzo c'è là dai non voglio che ci sia qualcuno là qui non ci si può sdraiare no mi fa cagare qua eh sì eh sì che safe di merda ok 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 Grazie. Figa. Li sento ma non li vedo. Sarò pazzo ma non li vedo. Cazzo siete tutti. Eccolo. Dai. Oh. E cominciamo. Fanculo. Ci ho messo ci uno sbirullino. C'è il problema che sia rimasto in tre. Figa. Qua parte tra un minuto. Quello lì stava puntando di là. Vedo la canna del fucile. Mi fa piacere. Non escludo che ci sia uno super di lì. So che estragliarsi qui magari è inutile ma. Marco proprio adesso devi metterti ad avviare smite 30 volte. Maledetto tu. Eeeh. Mi sono cagato. Che devo fare? Mi sono cagato. E sono morto. Con un colpo. Tra l'altro qui mi ha proprio schioppato nella faccia. Vediamo. Con un M16 tra l'altro. Ah no col car. Avevo usato il car. Era riuscito fuori car. Sì. Aveva la ghilli. Va bene. Porca troia. Era lì? Oh. Ed è morto poi? No ha vinto mi sa. Ah. Ah cazzo su pure il 10. E niente. Dai una che il sola. Che peccato. Si vede solo il casco. E io non l'avevo visto. Ha vinto. Ha vinto. E vabbè. E niente. Io direi che possiamo anche uscire. Farei un'altra. Però sono un po' stufo. Domani mi riposo anche un po'. Tra l'altro. La mattina. Dormo un pelo di più. Va bene ragazzi. Grazie mille di tutto. Grazie. Per aver seguito questo live. Spero vi siete divertiti. Io adesso vi mando. Da qualcuno. Che non è italiano. Chiaramente. Datemi il tempo per il ride. Intanto vi ringrazio per donazioni. Come sempre. Fammi vedere un po'. Chi potrebbe esserci qui. In creative. Music. Vediamo. Vediamo un po' di music. Christmas Dream. Ah. Questi qui fanno. Ah no. È always on. No. Non c'entra niente. Questa cosa qui. Adesso stanno fioccando tutti questi canali. Che sono sempre in live. Figo. Però. Ehm. Questo l'abbiamo già rideato. Questo qui è brutto. Questo sta giocando a Life is Strange. Non lo so. Come sempre un piacere. Piacere mio ragazzi. Piacere mio. Niente. Dalla musica non c'è nessuno che mi sta sconfinferando. Va bene. Vediamo qualcosa che disegnano. C'è qualcuno che disegna. Mamma mia. Che brutti disegni ragazzi. Vorrei uno bello. Cazzo ma c'hanno un sacco di spettatori. Quelli belli. Eh no. Non va bene. Vediamo questo qui. Che scherzo. Hi. Dai. Questo qua. Mi sembra preso bene. Vediamo quest'uomo. E gli scriviamo tutti. Draw a cat. Disegna un gatto. Eh. Anzi no. Dai. Facciamogli la più difficile. Perché lui è un artista. Draw a cat on the tube. Disegna un gatto sul tubo. Vediamo. Lo farà? Lo speriamo. Stanno ascoltando musica natalizia. Bravissimo. Secondo me. Molto bravissimo. Vabbè. Gionate tutti il ride. Non qui chiaramente. Aspettate il ride. Gionate dalla chat. Non ha senso scrivere qui in chat ragazzi. E vi ricordo che chiunque scriva una puttanata. Un'offesa. Una bestemmia. O qualunque cosa di strano. In quella live. Verrà permabannato. In questa. Succede tutte le sere. Tanto lo so. Va bene? Ciao.